Claudio Amendola, noto volto del panorama televisivo italiano, ha sempre attirato l'interesse del pubblico per la sua vita privata. Dopo il divorzio da Francesca Neri e padre di tre figli, l'attore ha recentemente iniziato una nuova relazione che ha portato con sé un importante cambiamento. La sua vita è stata segnata anche da un'esperienza drammatica, un infarto che ha rischiato di costargli la vita, ma che gli ha insegnato a guardare il mondo con occhi diversi. Dopo la separazione ufficiale da Francesca Neri avvenuta più di un anno fa, Amendola ha ritrovato l'amore con Giorgia Guglielman, una costumista del mondo dello spettacolo. Nonostante i 15 anni di differenza, la loro relazione appare solida e felice, con un'intesa palpabile che si è consolidata nel tempo. L'attore ha dichiarato di essere più tranquillo grazie a questo nuovo rapporto che gli dona serenità. Nel 2017 Amendola ha vissuto un infarto che ha cambiato radicalmente la sua prospettiva sulla vita. Dopo quell'esperienza ha smesso di fumare e ha iniziato a prendersi cura di sé, consapevole dell'importanza della salute e del benessere. Questo momento di paura lo ha spinto a riflettere sul valore della vita e a vivere con maggiore consapevolezza, apprezzando ogni singolo istante. Oggi Claudio Amendola ha trovato un nuovo equilibrio nella sua vita, sia dal punto di vista sentimentale che della salute. La relazione con Giorgia Guglielman gli ha portato serenità, mentre l'esperienza dell'infarto lo ha insegnato a vivere con gratitudine e consapevolezza. L'attore affronta la vita con un nuovo apprezzamento per ogni momento, cercando di coltivare una salute migliore e di questo punto di vista è un'esperienza della salute migliore. Grazie a tutti. Grazie a tutti. Grazie a tutti. Grazie a tutti. Grazie a tutti.